La mia giornata inizia sempre con un buon caffè, caffè semplice. Se vi state chiedendo se bevo il Bullet Prof, sì lo bevo però non al mattino presto, di solito lo prendo a metà mattina. Il primo caffè, ora sono le sette e mezza circa del mattino, lo prendo dolcificato con il Dietic. Il primo caffè della giornata dolcificato, gli altri li prendo tutti amari. Cerco sempre di togliermi questo vizio del dolcificare e sinceramente l'amaro inizia a piacermi anche di più. A volte ci metto un po' di panna, a volte ci metto un po' di latte di mandorla o di cocco. Se avete fame e non vi va un caffè o vi va qualcosa oltre al caffè, potete semplicemente prendere dello yogurt greco, 5%, e abbinarlo con della frutta secca. Nocciole, mandorle affettate, mandorle intere, quello che preferite. Nel caffè potete aggiungerci anche un po' di olio di cocco in modo da renderlo fat, grassoso. Oppure dell'olio MCT, se lo avete in casa. Per il pranzo, dato che sono da sola, la bambina è all'asilo, sarà una cosa molto molto semplice. Metto a bollire tre uova, farò delle uova sode, accompagnate sempre con della buona insalata. In questo caso ho tagliuzzato un po' di cavolo, cavolo morbido, che si chiama esattamente cuore di bue, e lo accompagnerò insieme alle mie uova sode. Come ben sapete, l'uovo è una proteina. L'insalata la vedrete sempre nei miei piatti, perché la trovo molto saziante, aiuta a stoppare la fame, e la utilizzo anche in caso di attacchi di fame. Ovviamente aggiungerò due giri di olio d'oliva extravergine, aggiungerò del sale e anche dell'aceto. Aceto di mela biologico, comprato al Natura Si. Crudo, non filtrato, mi raccomando, il migliore è crudo, non filtrato. Questa boccettina bottiglietta l'ho pagata, se non sbaglio, 2,60€, 2,90€ al Natura Si. Per aumentare un pochino la vostra dose di grassi, potete aggiungere tranquillamente delle olive. Ricordatevi che le olive non hanno sempre gli stessi carboidrati, quindi quando le comprate dovrete cercare quelle migliori a basso contenuto di carbo. Questo piatto è talmente semplice, ma è ricco di tutto ciò che avete bisogno durante la vostra giornata. È fatto di proteine, è fatto di grassi, è fatto di verdura e ci ho aggiunto una piccola ciambellina fatta da me. Passiamo ora allo spuntino, che sarà molto molto semplice, formato da un yogurt greco e con della frutta secca. Dato che al mattino ho bevuto solamente un caffè dolcificato e non ho fatto lo spuntino, diciamo che mi posso permettere qualche frutta secca in più. Delle nocciole piemontesi, tostate, con pochissimi carboidrati, con delle mandorle, ovviamente non tutto ve lo sto solo facendo vedere, però queste veramente le adoro. E ho la fortuna che anche la mia bambina ne va matta. aggiunto con un po' di yogurt greco è davvero delizioso. Potete aggiungerci dei semi di chia, dei semi di sesamo o addirittura anche un po' di mascarpone e fare un mix. Dipende sempre dalla vostra giornata quello che andrete a mangiare o quello che avete già consumato durante la giornata. Io ve lo sto solo mostrando, vi sto mostrando le alternative, però io ho mangiato semplicemente un yogurt greco con un po' di noccioline, granella di noccioline. La cosa che mi mette di più alla prova durante il mio regime alimentare, durante la mia dieta, è quello di cucinare per il resto della famiglia. La mia bambina va matta per questi waffle. Ovviamente sono waffle con farina 00. Giuro che non ne ho assaggiato neanche uno. Questo, dopo tanti mesi e tanti anni di dieta chetogenica, è la prova più grande che uno può affrontare. Fare le cose senza neanche toccarne uno. Ora passiamo alla cena. Ho fatto semplicemente mezza zucchina alla griglia con due piccoli peperoni verdi sempre alla griglia. Nell'alimentazione chetogenica è preferibile utilizzare i peperoni verdi, quelli piccolini. Ora non mi ricordo bene il nome, però sono piccoli perché hanno meno contenuto di carboidrati. Ci aggiungerò un po' di sale e lascio cuocere per qualche minuto. Ora che le verdure sono pronte, andremo a impiattare. Nei miei piatti cerco sempre di mettere qualcosa di verde, che sia zucchina, che sia insalata come il cavolo, come l'iceberg, come la lattuga, un po' di peperoni o, ad esempio, dei broccoli. Lo vedrete sempre nei miei piatti. Quindi, anche se mangio carne, anche se mangio pesce, abbino sempre un po' di verdura consentita concessa. Ovviamente non può mancare la mia manciata di insalata di cavolo. Come vedete ho una bacinella già pronta, con del cavolo già tagliuzzato, lavato, pronto solamente da condire. Ora vorrei mostrarvi una cosa semplicissima, una cosa che molto spesso sottovalutiamo e cerchiamo sempre di creare dei piatti grandissimi, coloratissimi e anche a volte complicati. Però dobbiamo imparare che tante volte in una semplice scatoletta, come ad esempio questa, c'è tutto quello di cui ne abbiamo bisogno. Soprattutto per chi non ha tempo di cucinare o, ad esempio, come me, non sa cucinare così bene da poter realizzare dei grandissimi piatti. Questo è un filetto di sgombro, sfilettati a mano con dentro olio extravergine di oliva. È della Rizzoli. Ha 39 grammi di grassi per 100 grammi. Questa è una lattina da 90 grammi. Non ha carboidrati ed è fatto da 18 grammi di proteine. Come potete vedere, in una scatoletta così semplice avete tutti i macronutrienti a vostra disponibilità. Una cosa buona di questo filetto è che non puzza, quindi anche se lo portate al lavoro non avrete, diciamo, addosso quella puzza di filetto di sgombro. Ha dentro all'interno l'olio d'oliva che potete buonissimo utilizzare per condire la vostra insalata. costa 2 euro e 15 all'esse lunga. Come vi dicevo, è comodissimo per un piatto veloce. Ovviamente state mangiando del pesce, quindi come ben sapete è ricco di vitamine. Proteine 18 grammi, grassi 39 grammi e le calorie sono 425 per 100 grammi. In un piatto semplicissimo, come questo, avete tutti i macronutrienti di cui necessitate. Macronutrienti sani, grassi sani. Potete accompagnarlo con un po' di ricotta, sempre con del yogurt greco, se non l'avete utilizzato, per il vostro spuntino. A volte dico sempre che la semplicità è sotto i nostri occhi, però cerchiamo sempre di complicarci la vita con cose introvabili, con cose, diciamo, abbastanza complicate. Come vi ho già detto prima, questa scatoletta che l'ho presa all'esse lunga è davvero la unica che non puzza. È un filetto di sgombro che quando lo mangiate non vi rimane addosso con la puzza di pesce. Quindi ottimo anche da portare al lavoro come pranzo veloce. Vi mostro la mia famosa bacinella, sempre disponibile nel mio frigorifero. Ovviamente è uno scolapasta. Mi preparo sempre dell'insalata già pronta nel frigo. tagliata, lavata, tagliuzzata, solamente pronta da condire. La utilizzo tanto anche in caso di attacchi di fame. Come vi dicevo tante volte, mi aiuta veramente tanto a saziarmi. Compro spesso l'iceberg. Questo è il cavolo cuore di bue, ma anche l'iceberg è a basso contenuto di carboidrati, ovviamente concessa nella chetogenica, perché è una verdura verde che cresce sopra il suolo. Vi consiglio di fare una cosa del genere e di tenerla sempre a portata di mano, perché può ritenersi davvero utile, soprattutto in caso di fretta. Così non vi porta a, diciamo, una cattiva alimentazione, ad aggrapparvi alla prima cosa che trovate davanti. Ovviamente del buon olio e del buon aceto di mele. Ultimamente nelle mie ricette vedrete spesso queste salsicce. Sono state fatte a mano in casa da mio padre, che ha comprato tutta l'attrezzatura necessaria per farle. Quello che fa è solamente cambiare la carne. Sceglie vari tipi di carne, li fa macinare e poi crea la salsiccia senza conservanti, solamente con un po' di sale, pepe o quello che dovrebbe andarci come condimento. Carne ricca in proteine, solamente dovete abbinarci dell'insalata e dei grassi a vostra scelta. Ovviamente la cucino sempre alla griglia con la bistecchiera. Questi sono alcuni degli esempi di insalata che ultimamente sto consumando. Ho del broccolo, che molto spesso lo faccio bollito, del cavolfiore sempre bollito, oppure la purea di cavolfiore che poi un giorno ve la farò vedere, il mio cavolo cuore di bue e dell'insalata iceberg. Ho la fortuna anche che la bambina va matta per il broccolo e per il cavolfiore, quindi riesco a cucinare sia per me che per lei. Ricordatevi che la verdura concessa nell'alimentazione chetogenica è la verdura a foglia verde, la verdura che cresce sopra il suolo, quindi in questo caso l'iceberg, il cavolo, della lattuga, il broccolo, tutto ciò che cresce sopra il suolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.